Io credo che quello che ha motivato il sindaco Peria siano ragioni autentiche, reali, cioè quello di verificare l'impotenza di potersi far ascoltare nei confronti di una regione che pur essendo governata e gestita da rappresentanti dello stesso partito non ha dato risposte sotto i spacenti, anzi ha accentuato con le decisioni ultime un degrado di questo ospedale inaccettabile. Io ritengo che il Comune Unico, di cui sono assertore da 20 anni, è secondo me lo sbocco naturale di una situazione istituzionale all'Irba che non può essere che altrimenti se non si continua con una frantumazione che crea sempre delle difficoltà. Che poi si possa pensare che questa situazione sia legata al Comune Unico a me mi sembra una forzatura, mi sembra che almeno da quello che si legge, si sa, non sia una novità che all'interno del partito che è un contenitore di posizioni, culture diverse, anche per quanto riguarda questioni di carattere ben più notevoli della nostra, cioè a livello nazionale ci siano differenziazioni, chi più di altri litiga se non Rezzi, Conversale e così via.